Ragazzi, io faccio questo video per presentarvi il nuovo membro della squadra, cioè non della squadra, dell'Associazione degli Assoluti, ovvero Cancele del Biscotto, che ovviamente se sta guardando questo video saluto. Bene, ci ho messo un biscotto al centro, in pratica è il detective della nostra associazione, tutto oscuro, nero, con i suoi occhiali da sole per coprire i suoi occhi, il suo naso e tutta la sua identità. E poi, io mi ho messo tipo, che sembra che sta stricciando, ma in realtà è tipo un fantasma che fa così, ed è velocissimo, è forte, è astutissimo, qui c'è il segno del biscotto. Grazie a tutti.